Continuiamo nel nostro studio e commento dell'Epistola dei Fesini e abbiamo analizzato il capitolo 1, adesso andiamo verso il capitolo 2. Come ci risulta dall'Apostolo Paolo, spesse volte nei suoi scritti passa da un argomento all'altro seguendo un filo del pensiero e magari certe volte ci rimane un po' anche difficile seguirlo, anche l'Apostolo Pietro scriveva e diceva che Paolo scrive delle cose che alcune volte sono difficili a comprendere. E certamente come vediamo da una prima lettura non è così sempre semplice comprendere i ragionamenti che l'Apostolo fa, ma alla fine noi ci ritroviamo che lui riprende anche degli argomenti e le riporta quindi verso una conclusione. Ora l'Epistola dei Fesini è particolare perché è un'Epistola che rivela delle cose che non sono scritte da nessun'altra parte in questa maniera, come ce li vengono rivelati in quest'Epistola. E mi riferisco specialmente a questa parola che troveremo qui avanti che è il mistero. Ma in questo capitolo 2 ci viene rivelata ancora un'altra cosa importante che forse non troviamo in altre epistole. Infatti il capitolo 2 ci dice che ci ha risuscitato e li ha risuscitato anche voi che eravate morti a causa delle vostre colpe e dei vostri peccati nei quali un tempo vivesse nella maniera di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria. Quello spirito che ora opera negli uomini ribelli, nel numero dei quali ribelli del resto siamo vissuti anche tutti noi, un tempo con desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi ed eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti risuscitare con Cristo e poi grazie a noi siete stati salvati. Ecco, allora l'epistola di Fesini, capitolo 2, inizia con questa affermazione. Egli ha risuscitato anche voi che eravate morti. Certo, a chi si sta dirigendo? L'apostro si sta dirigendo a persone che hanno accettato Cristo Gesù, che hanno creduto in Cristo, perché come abbiamo detto sono entrate grazie alla volontà di Dio, alla sua preconoscenza, alla sua elezione, alla sua grazia a far parte della Chiesa. Quindi sono persone nuove, ma sono persone fisicamente viventi. Quindi l'apostro qui si rivolge a persone che sono fisicamente viventi e gli dice voi siete stati risuscitati. E questo può sembrare un non senso, perché se tu sei vivente come fai a essere morto. E per questo l'apostro, come abbiamo già detto, che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti, di ogni benedizione spirituale, ci riporta a questo flusso di pensiero dicendo guardate, siete stati benedetti, siete stati portati in questa nuova realtà attraverso la grazia. Perché siete stati portati in questa nuova realtà attraverso la grazia? Perché in realtà voi non eravate vivi, eravate morti, eravate per natura, dice dei figlioli di ira. Tutti noi eravamo così, tutti noi eravamo rinchiusi in questo numero di uomini, ribelli, che sono guidati dalla propria carne, dai propri desideri. E dice la parola del Signore che questa è una realtà, che ciascuno di questi uomini, ciascuno di queste persone seguono i desideri della propria carne, sono voglie dei propri sentimenti. e dice eravamo per natura figli dell'ira, meritevoli dell'ira, del giudizio. Perché spiega, e qui abbiamo una nuova chiave di lettura, perché spiega l'Apostolo, eravamo tra tutte queste persone anche noi una volta come morti e come ribelli? Perché seguivamo il principe della potenza dell'aria. E qui viene introdotto una cosa nuova, il principe delle potenze dell'aria, quello spirito, uno spirito che opera negli uomini ribelli. Quindi è una nuova rivelazione, non c'è solo la rivelazione del fatto che Cristo ha compiuto ogni cosa, che Dio l'ha messo come capo della Chiesa, che è la Chiesa del suo corpo, ma dice guardate, fuori di questa realtà c'è comunque qualcuno che comanda, c'è qualcuno che dirige la vita degli uomini, c'è qualcuno che riporta nel peccato. Questo qualcuno è un principe, è un principe della potenza dell'aria, quindi è una realtà spirituale che viene classificata come un principe che vive in questa dimensione dell'aria ed è uno spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Questa realtà non è solo la realtà degli Efesini di quel tempo, ma è la realtà ancora di oggi, perché ancora oggi ci sono persone che sono morte nei peccati, ancora oggi ci sono persone che seguono le proprie voglie naturali, ancora oggi ci sono persone che sono per natura nel peccato, come dice qua. Però tutto questo avviene perché c'è questa influenza anche del principe che lavora nelle sfere dell'aria. E quindi viviamo in questa realtà, ancora oggi viviamo in questa realtà, ma ancora oggi viviamo nella stessa realtà, nel versetto 4 e 5, Dio che è ricco di misericordia e per il grande avore che ci ha amati, anche quando noi eravamo morti per i peccati, ci ha fatti risuscitare in Cristo, infatti siamo stati salvati per grazia. Ecco che quindi noi abbiamo questo essere immedesimati con Cristo, per la sua grazia in Cristo, immedesimati con Lui, siamo liberati dalla morte e per essere liberati dalla morte entriamo nella resurrezione. E questa è una cosa gloriosa. Non siamo più morti, ma siamo risuscitati, entriamo in una nuova dimensione di vita. Quindi non entriamo solo a far parte della Chiesa tramite la grazia di Dio, ma questa potenza di vita che ci viene data è proprio la potenza della resurrezione. La stessa potenza di resurrezione che Dio ha manifestato nella resurrezione di Cristo è la stessa potenza che ci porta a noi nella resurrezione, che ci fa vivere in una vita di potenza e di resurrezione. E quindi da una parte abbiamo la rivelazione dell'angelo decaduto, il principe delle potenze dell'aria, contro cui combattiamo. Poi noi riprenderà questo concetto nel capitolo 6, dove il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati e potestà che sono nei luoghi celesti. Quindi abbiamo comunque un principe nell'aria, in questa dimensione dell'aria, quest'angelo decaduto e qui abbiamo un combattimento. L'uomo è spinto attraverso anche la manipolazione che esiste nelle sfere celesti a desiderare di più ed è manipolato attraverso la paura, la paura della fame, la paura della povertà, la paura di non essere compresso, la paura e quindi quante paure ci sono e quante manipolazioni ci sono nella vita dell'uomo. E molti pensano appunto che questo dipende solo da una cattiva nascita o da una situazione di miseria. Ma dietro, l'Apostolo ci fa vedere che dietro a questa situazione di povertà, di miseria eccetera, c'è comunque una manipolazione, un architetto, come potremmo dire, un regista forse più che un architetto, che muove i fili e fa sì che le cose succedano in una certa maniera approfittando appunto del cuore malvagio dell'uomo. E così si cerca la lussuria, perché bisogna riempire la vita con il piacere, da un vuoto insopportabile, si cerca di vivere fuori dalla noia. Quante gli esistenzialisti hanno parlato della noia di vivere, insomma, non c'è più niente, alla fine tu puoi fare tutto, perché l'importante è che tu riempia la vita di un senso, perché la vita non ha senso e questo è quello che viene fuori anche nella nostra cultura moderna. E allora ecco che la vita diventa solo una lotta per chi è più forte, per chi ha più potere, per chi più può manipolare. E questo è proprio tutto il contrario della nostra chiamata. La nostra chiamata, siamo stati chiamati per essere irreprensibili, portare la luce in una dimensione di mondo invece che è storto, è perverso, è pieno di peccato, di buio e di morte. In questo mondo di morti noi siamo chiamati ad essere viventi, ad essere ressuscitati con Cristo. E quindi noi non cerchiamo più, come dice l'Apostolo, le cose di sopra, ma cerchiamo le cose di qua giù, ma cerchiamo le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. E allora non c'è più la paura della povertà, non c'è più la paura del vuoto, non c'è più la paura del non senso della vita, perché comunque Cristo è per noi risposta a tutte le domande. E allora in Cristo noi siamo pienamente soddisfatti, perché la condanna non è più sopra la nostra vita, ma siamo stati liberati da ogni peso di condanna. E quindi Dio dà a tutti questa opportunità. Tutti possono essere persone che vivono la risurrezione con Cristo. Tutti possono ereditare quindi la vita eterna e tutti possono essere risuscitati con Cristo. E non solo dice siamo risuscitati con Cristo, è vero, ma siamo anche con Lui seduti nei luoghi celesti. Infatti non c'è solo l'immedesimazione nella morte di Cristo, ma anche nella sua risurrezione, ma c'è anche l'immedesimazione, versetto 6, con Lui ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. Molti ravvisano questo passo e dicono, ah guarda che tu oggi non sei seduto nei cieli, tu sei seduto sulla terra e ti devi rendere conto che sei seduto sulla terra, che devi muoverti e fare qualche cosa per fare sì che tu possa vivere la tua vita cristiana. Ma non dico che non dobbiamo fare le cose, ma la Bibbia ci segna chiaramente che noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti e come dice nei versetti successivi, dice che la nostra salvezza è per fede e che Dio ha preparato per noi le opere che noi dobbiamo compiere. È qualche cosa che Dio ha già stabilito per ciascuno di noi. E quindi noi siamo immedesimati nella sua morte, siamo immedesimati nella sua ressurrezione, ma non siamo solo immedesimati nella sua reazione, siamo immedesimati anche nella sua glorificazione. E così questo è molto importante perché noi siamo seduti con Cristo. Questo significa che tutta la gloria di Cristo, tutta l'autorità di Cristo, quella che Dio Padre ha dato a Lui, oggi è parte anche della nostra realtà. Forse noi non riusciamo a percepirlo, forse non riusciamo a viverlo fino in fondo, però potenzialmente è là, è a nostra disposizione, perché noi siamo glorificati in Cristo Gesù. Siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù. La tua vita è sulla terra, ma tu stai vivendo sulla terra come già parte del cielo. E infatti Dio ti ha dato la caparra. La caparra è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non è una cosa della terra, lo Spirito Santo è una cosa del cielo. Perciò tu vivi nel cielo, vivi sulla terra con la dimensione del cielo. Insomma, non è una cosa da poco questa, è vero? E questo significa che il Signore vuole che comunque noi dimoriamo attraverso la Sua grazia e attraverso lo Spirito in comunione continua con Lui. Quindi possiamo già regnare, già regniamo con Cristo. E Lui ci ha dimostrato la Sua potenza, la Sua grazia e già regniamo con Cristo. Dobbiamo imparare a esercitare l'autorità. E questo cammino, il terreno, ci insegna proprio questo, ci aiuta. Dio vuole che noi impariamo a esercitare l'autorità, perché un giorno regneremo per sempre con Cristo. E se non impariamo a regnare oggi, questo è il nostro periodo di apprendistato, se non impariamo durante il nostro apprendistato, poi sarà un po' difficile, è vero? Allora, sì, diciamo, avremo tutta l'eternità per imparare. Certamente Dio ci guiderà a una qualifica eccezionale. Comunque Lui vuole che oggi noi siamo figlioli di luce, che splendiamo questa generazione, che portiamo avanti la parola della salvezza. E infatti la parola del Signore ci dice, versetto 7, che tutto questo è avvenuto per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. E per questa grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è per opere, perché nessuno possa avvantarsene. Per quante volte abbiamo preso questo versetto? Per quante volte abbiamo testimoniato agli altri di questo versetto. Molte volte, anche quando la nostra cultura si parla che se vuoi essere salvato devi compere dei pellegrinaggi, devi fare cose strane, camminare forse sulle ginocchia, percorrere a piedi chilometri, fare pellegrinaggi. Questa è un po' la nostra cultura, è vero? Insomma, questo cielo te lo devi ameritare in qualche maniera, perché se no non ci vai nel cielo. Ma la parola di Dio ci dice che Dio ha stabilito questo nel suo disegno, vuole mostrare la sua bontà verso di noi, attraverso Cristo Gesù. E la cosa principale che ci viene messa in evidenza, che viene ripetuta anche in altri scritti, è che per fede noi siamo stati salvati, mediante la fede. Questo non viene da voi, è il dono di Dio. E non è per opere, perché nessuno se ne può vantare. Questa è una cosa veramente incredibile. La salvezza quindi è stata già conclusa nel passato. È qualcosa che è stata già progettata prima della creazione del mondo. È un'azione che è collocata nel passato, che ci riguarda nel presente, che viviamo nel presente e che riguarda il nostro futuro. Dio è perfetto, l'ha pensata nel passato, la realizza nel nostro presente, perché noi aderiamo a questo attraverso la fede e la vivremo nel futuro per tutta l'eternità. E quindi noi abbiamo questa certezza, che è una certezza immutabile, una speranza ferma, che non l'abbiamo proprio attraverso la fede. Ora, tutto questo è stato ottenuto proprio attraverso la fede in Cristo Gesù. E fede, qui la parola è pistis, la parola fede è pistis, cioè una convinzione profonda che Cristo ha pagato per noi, sulla croce, il prezzo al posto nostro. E che quindi noi, se ci affidiamo a Lui, riceveremo la vita eterna e riceveremo la salvezza, come già abbiamo sottolineato più volte. Ma la cosa bella che vogliamo sottolineare questa sera è che questa salvezza è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, ma è un dono, un dono di Dio, affinché nessuno si glorie, che queste opere sono il frutto della grazia nella nostra vita. Non compiamo opere perché vogliamo ricevere la salvezza, ma compiamo opere perché la grazia di Dio ci dice che cosa noi possiamo fare, che cosa dobbiamo fare. E quindi la salvezza è per fede e non è per le opere e non è per i meriti perché nessuno di noi si può vantare davanti a Dio di meritarsi la salvezza, ma tutti noi siamo salvati per grazia, è vero, mediante la fede in Cristo Gesù. Gesù ha fatto tutto il possibile e l'impossibile per ciascuno di noi. E qui dice la parola del Signore che noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Voglio rileggere questo versetto perché è chiave. Siamo la opera sua, la parola qui è poema, noi siamo il poema di Dio, la poesia di Dio. E siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha già predisposto perché noi le praticassimo. e quindi se una volta eravamo morti e non potevamo fare niente, ora che siamo stati risuscitati, siamo destinati a un glorioso futuro, siamo nuove creature e adesso possiamo avere tutte le grazie, a tutti i mezzi, per compiere anche le opere buone. E qui ora l'Apostolo ritorna a un concetto già espresso, dicendo che la grazia di Dio si è manifestata non solo verso i di ebrei, ma si è manifestata anche verso i gentili. Cioè alla fine, come abbiamo detto, chi è la Chiesa? La Chiesa è composta da tutti quelli che hanno creduto in Cristo Gesù. E qui entra un nuovo concetto, l'Apostolo introduce un nuovo concetto dicendo che noi che eravamo morti, non solo eravamo morti, ma eravamo anche strani alle promesse, perché Dio aveva fatto le sue promesse solo ad un popolo e quel popolo era il popolo ebraico. E noi eravamo strani a queste promesse e loro si sentivano avvantaggiati perché avevano la legge, avevano le promesse, avevano il segno della circoncisione, quindi erano qualche cosa che senza altro avevano un vantaggio rispetto a tutti noi che non avevamo niente di queste promesse. Però dice la parola del Signore, voi che eravate lontani ora siete stati avvicinati, voi che eravate morti ora siete ressuscitati. E la cosa è che il Dio, appunto di due popoli, come dirà poi nel capitolo successivo, il grande mistero e la grande realizzazione che c'è nella Chiesa è che di due popoli Dio ne ha fatti uno solo. Tutto questo attraverso il sacrificio di Dio. E quindi tutti quelli che erano lontani sono stati avvicinati, è vero, al Padre, attraverso il sacrificio di Cristo perché dice Cristo è la nostra pace. Cristo è la nostra pace. Lui che infatti è la nostra pace, lui che di due popoli ne ha fatto uno solo, ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inemicizia, annullando per mezzo della sua carne nella legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso di due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce distruggendo in se stesso l'inemicizia. Cristo è la nostra pace. Possiamo affermare questo con grande gioia, con grande enfasi. Cristo è la nostra pace perché ha abbattuto ogni muro di divisione, ogni muro di separazione nella sua carne, attraverso il suo sacrificio, ha fatto cessare tutte le ingiustizie che venivano dalla legge e attraverso la grazia ha portato una novità di vita e oggi siamo tutti una sola cosa in Cristo Gesù. Di due popoli, cioè di chi ha i popoli, dei giudei e dei pagani, ne ha fatti uno solo e questo nuovo popolo è la Chiesa, il suo corpo, come ha specificato nel capitolo dove Cristo è il capo e noi siamo parte dei suoi membri di questo corpo. E infatti è venuto perciò ad annunziare pace. Gesù è venuto ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a quelli che erano vicini. Chi era vicino? Il popolo giudeo era quello che erano vicini, avevano i patti, avevano le promesse, noi eravamo strani. Ma oggi il Signore ha fatto la pace e per mezzo di Lui, vedete quante volte si ripete in Cristo, per mezzo di Cristo, in Cristo, per mezzo di Lui in Cristo noi possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un medesimo spirito. Chi è che ha suggellato questa unità tra giudei e pagani e gentili? Chi è? È lo spirito. attraverso il medesimo spirito entriamo a far parte di un medesimo corpo perché Dio ha fatto questo grande miracolo, ha unito insieme in questo progetto di salvezza che è la Chiesa e il popolo giudeo e il popolo gentile e così è venuto Gesù è venuto per annunciare la salvezza a portare la pace e sia a quelli che erano lontani sia a quelli che erano vicini e oggi tutti giudei o gentili a motivo dello stesso sacrificio e a motivo dello stesso spirito possono rivolgersi al Padre e ricevere la benedizione e così ritorniamo a dire quello che abbiamo detto è che siamo benedetti di ogni benedizione in Cristo Gesù senza distinzione giudei e gresci perché tutti noi che crediamo entriamo a far parte di questa realtà nuova che è la Chiesa e il corpo di Cristo e l'Apostolo continua e ribadisce dicendo appunto che ormai voi non siete più stranieri non siete più ospiti ma siete concittadini dei Santi e familiari di Dio ecco qui si introdusce una nuova categoria non più stranieri ma neanche ospiti ma concittadini dei Santi una nuova categoria chi sono i concittadini i cittadini appartengono a uno Stato va bene qui parlando di concittadini si parla del Regno di Dio noi entriamo a far parte del Regno ma non solo del Regno ma come fratelli di Cristo fratelli adottati figli adottati figli fratelli di Cristo entriamo a far parte della famiglia di Dio e così diventiamo concittadini anche del popolo di Dio siamo sullo stesso livello non siamo più stranieri non siamo neanche ospiti siamo proprio la stessa realtà per la fede e così tutte le persone di ogni nazionalità di ogni latitudine del mondo possono entrare a far parte di questa realtà e ci saranno persone come ci sono ancora di tutti i colori veramente ne vedremo di tutti i colori quando il Signore Gesù ritornerà perché ci saranno persone di tutti i colori e di tutte le razze questa è una cosa gloriosa per sapere che non c'è più solo una parte di una razione del mondo una piccola parte della popolazione del mondo che riceve la benedizione ma che questa benedizione è universale è per tutti attraverso Cristo Gesù e così entriamo a quello che è il fondamento adesso il santo fondamento fino ad oggi finora abbiamo parlato del fatto che c'è questa realtà che Cristo è quella che è la nostra pace che noi siamo concittadini ma tutto questo su che cosa si basa si basa sul sacrificio di Cristo perché dice Efesini 2.20-22 che Cristo stesso è la pietra angolare non c'è un'altra pietra a me questa è la pietra del fondamento la pietra di base e accanto alle pietre del fondamento siamo stati edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore e di Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che è di servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito ancora un'altra realtà la Chiesa è come un edificio noi entriamo a far parte di questo edificio noi come pietre entriamo a far parte di questo edificio non solo siamo membra del corpo non solo siamo concittadini non solo siamo figli ma siamo anche mezzi di crescita cioè ognuno di noi è un pezzo per costruire questo edificio spirituale che è un tempio santo del Signore che serve come dimora di Dio per mezzo dello Spirito quindi la Chiesa è paragonata ad un edificio il cui fondamento è insieme a Cristo Gesù che è la prese angolare anche gli apostoli e i profeti ora molti qui ritorniamo anche su un concetto che il fondamento è certamente sul insegnamento degli apostoli e dei profeti di quel tempo infatti noi stiamo parlando proprio dell'insegnamento di un apostolo l'apostolo Paolo e si è innalzata sulla base di questo fondamento di questa dottrina di questo insegnamento ma ancora oggi noi crediamo e predichiamo e insegniamo che ci sono apostoli e profeti che ancora oggi la parola del Signore viene manifestata attraverso questo insegnamento non è che andiamo oltre quello che è scritto non possiamo andare oltre quello che è scritto ma comunque attraverso i vari ministeri la Chiesa è edificata e infatti io credo che qui si parla per esempio quando dice che è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti non si può riferire ai profeti del Vecchio Testamento perché se si riferisse ai profeti del Vecchio Testamento allora ci dovrebbe essere qualche dottrina che viene spiegata intorno a queste realtà spirituali della Chiesa eccetera quindi si parla di profeti del Nuovo Patto non dei profeti e gli apostoli ovviamente nel Vecchio Patto non c'erano e quindi si parla comunque di ministri in relazione al Nuovo Patto e allora ancora oggi siccome Dio non è cambiato ancora oggi manifesta la sua grazia attraverso i ministri come apostoli e profeti e quindi ancora oggi noi non vogliamo dire come dice la popolese di aggiungere qualche cosa purtroppo c'è chi aggiunge insegnamenti alla parola di Dio non siamo qui per aggiungere né siamo qui per togliere qualche cosa ma siamo qui per spiegare per manifestare per incoraggiare perché comunque già in quello che è scritto ci sono delle riverità che sono ancora nascoste e che comunque lo Spirito Santo continua a rivelarci infatti anche Giovanni capitolo 16 Gesù ci dice in Giovanni capitolo 16 ho ancora molte cose da dirvi ma non sono per ora la vostra portata quando però sarà venuto lui lo Spirito della verità e vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo ma dirà tutto quello che avete udito che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire e di mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà più andiamo avanti nel tempo più ci sono delle riscoperte di verità bibliche per esempio in questi ultimi tempi abbiamo visto la riscoperta dell'adorazione secondo il modello della tenda di Davide la riscoperta della preghiera continua sempre in relazione a questa adorazione continua secondo il modello di Davide e anche la riscoperta dei vari ministeri la riscoperta del senso della Chiesa il ritorno alle Chiese familiari via via lo Spirito Santo ci porta avanti e quante cose dobbiamo scoprire ancora sugli ultimi tempi perché in realtà noi stiamo vivendo gli ultimi tempi ma non è che abbiamo così tutto profondamente chiaro di tutto quello che è la rivelazione dell'Apocalisse riguardo agli ultimi tempi però noi stiamo vivendo gli ultimi tempi e mentre noi viviamo lo Spirito Santo ci rivela man mano delle cose attraverso gli Apostoli e i Profeti e anche nel libro di Giuda è scritto carissimi avendo un grande desiderio di iscrivervi della nostra comune salvezza mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere esternamente per la fede che è stata trasmessa ai Santi una volta e per sempre e questo è importante perché la fede è stata trasmessa ma ancora oggi lo Spirito di Dio che è Spirito di profezia che è Spirito di rivelazione insegna e guida la Chiesa e porta avanti è vero la rivelazione dandoci sempre nuove impulsi e nuove guide e nuove benedizioni perciò noi vogliamo ringraziare il Signore per tutto questo perché il Dio ha avuto un progetto meraviglioso amè e questo progetto non è finito ho pochi o tanti che noi siamo nel mondo siamo tantissimi e questo dobbiamo sempre tenercelo a mente tenercelo a mente che anche quando siamo pochi in realtà siamo tantissimi perché siamo circondati come dice i ebrei da un grande numero di testimoni che hanno creduto in Cristo che hanno accettato per fede questo suo sacrificio salvifico che l'hanno fatto suo e che quindi si sono in mediasi macchina nella sua morte si sono in mediasi macchina nella sua resurrezione hanno acquistato le eredità credono in questa eredità e attraverso questa speranza continuano ad andare avanti così io voglio incoraggiarvi concludendo anche questo capitolo 2 a continuare a credere a continuare a sperare e a continuare a guardare avanti gli anni passeranno e forse qualcuno di noi non vedrà al ritorno di Cristo morirà e andrà a riposarsi da qualche altra parte è vero qualcuno forse invece lo vedrà non lo so il Signore lo sa ma la cosa importante è che comunque noi siamo stati fatti partecipi di questa grande eredità del mistero che è stato anche nascosto in Dio come vedremo poi nel capitolo 3 che è stato rivelato oggi ai Santi Apostoli e ai profaniti di Lui e che è questo di costituire 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 un popolo nuovo che è la Chiesa prendendo da ogni parte del mondo attraverso la grazia e grazie al sacrificio di Cristo Gesù il Signore ci benedica e ci rivediamo prossimamente per trattare il capitolo 3 e il capitolo 4 e il capitolo 4 e il capitolo 4 è un capitolo 4